Parte l'offensiva contro i locali nel centro di Brindisi che di notte alzano il volume delle casse acustiche oltre il limite e gli orari consentiti. La polizia locale ha depositato in procura un dettagliato rapporto di 300 pagine in cui è descritto il lavoro di mesi di verifiche amministrative nel corso delle quali sono stati ipotizzati anche reati di natura penale. Succede spesso però che intervenga anche l'ambito penale nel momento in cui emergono delle violazioni più gravi, pensiamo al disturbo della quiete pubblica o pensiamo alle occupazioni abusive di terreno pubblico. I controlli sono partiti nel mese di settembre dello scorso anno da un esposto sottoscritto da una sessantina di residenti nella zona del centro storico in cui si sviluppa maggiormente la movida, quella tra Palazzo di Città, Piazza Vittoria e Nuovo Teatro Verdi. La polizia locale, accompagnata dai tecnici dell'ARPA, muniti della strumentazione necessaria, ha effettuato verifiche in otto diverse abitazioni i cui proprietari segnalavano il rumore insopportabile proveniente dai locali e in tutti i casi è stato effettivamente riscontrato il superamento netto della soglia consentita. I rilievi sono strumentali e vengono fatti da organi deputati proprio a fare questo tipo di misurazioni per cui non c'è alcun dubbio sulle violazioni che sono state riscontrate.